Ciao ragazzi sono Bug e oggi siamo su Firefly 4 come vedete a queste primissime immagini e siamo qui nell'arena dove bisogna sconfiggere gli altri giocatori all'interno dell'arena e non ci sono solo persone ma ci sono anche animali come vedrete dopo intanto uscidiamo questi ok e c'è il pubblico che lancia dei rifornimenti per aiutarti è abbastanza carino io porto questa modalità su Firefly come vedete appena uscito un lupo dal da là cerchiamo di sparare il lupo perché se dopo viene da noi sono guai andiamo giù faccio ne uno ok abbiamo acceso il lupo speriamo di non morire subito va bene ho acceso questo e ho acceso quello ok quindi come vedete il pubblico ha lanciato questo rifornimento che è una granata una molotov vediamo di prendere questo poi Sky oh sì sì tutti tutti e tre nello stesso colpo wow ok vediamo se c'è guarda quanti rifornimenti che ci sono là un altro rifornimento qua siamo al tonno 2 uno il lupino il lupino oh 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 scappa 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 quanti animali ci sono difficile fatto ci sono un sacco di animali proviamo di qua bisogna prendere tutto il possibile disegniamo alziamo la granata qui non c'è nessuno non sono ok ah mi sono bruciato da solo perché non mi attaccano andiamo nel d'orolo via via scappa 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 questa cara è difficile come sai che troviamo ma per scappa 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 oioioioioioioioio io ho prendito questo ok mamma mia è difficile questo pezzo ok un altro non manca solo uno vedo due a la scappa capa via 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 ma è impossibile vediamo dove sono cacchio ma vieni vieni no no ok va bene se si è fatica però ci siamo dopo non fuori quelli ma non c'è nessuno fortunatamente aspetta ho ucciso bene un po di munizioni andiamo questo ma che si scalino un po tolore perché sennò faccio tutto io da solo ho messo male io direi che possiamo cercare delle nove ame perché sennò fischia ora muore mai via via scappa 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 via 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 ok siamo scappati un po insomma qui si scalino un po tra loro vai giù o no non muove più nessuno chi schiavo vedete inizia a farsi difficile proviamo tutta l'armatura io sono non dico nudo ma quasi siamo delle armi però non c'è nessuno io tu ass via scappa 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 via aspetta che c'era una pistolina ah 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 oh oh ok via ooooh devi non andare assi ooooh 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 Manca l'ultimo Dai, manca poco Oh, ce l'ho fatta Manca quasi l'ultimo round Ecco, questo è il round finale Dove ci sono solo loro, fortunatamente E andiamo però al finale E nell'acqua sotto Oh, cacchio Un attimo, via Ahiaiaiaia Uh, ok Provando, via No, che cana ha sparato, carino Figlio Ok Ok Ok, devo prendere l'unico a prendere questo Non so far niente Andiamo Uh, qua se ne vuole Dov'è, dov'è, dov'è Non muoiono più Ok, manca solo quello là Uh Teniamo Una granata No, ho sbagliato Una granata Perché? Ecco Mi rialza lì Oh, allora vai giù Oh Che ne ha vinto Come vedete Quindi ragazzi Se il video vi è piaciuto Vi consiglio di lasciare un like Restate all'arena di Far Cry E A parere mio è abbastanza buona Poi come avete visto prima Guardate qua Può essere anche senza fine Oppure sfida delle armi Praticamente Usate un'arma E se arriva a tre stelle E Vincete Quindi è anche carino Quindi se il video vi è piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi al canale Bella Grazie a tutti Grazie a tutti